ciao a tutti ragazzi benvenuti ben ritrovati sul canale di acmian inside e quest'oggi andremo a rispondere alle domande che ci avete fatto alla storia di instagram che abbiamo postato un paio di giorni fa domande che sono passate dal recupero di ibra rebice leao per la sfida di oggi pomeriggio a situazioni di mercato sia maschile che femminile prima di cominciare come al solito vi chiedo di lasciare un bel like un commento di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati sui contenuti che porteremo qui sul nostro canale youtube poi in descrizione vi lasciamo come al solito il nostro profilo instagram twitter telegram discord facebook ma anche il nostro sito internet www.acmianinside.com bene ragazzi allora incominciamo subito adesso vi lascerò qui lo screenshot della storia che abbiamo pubblicato un paio di giorni fa e vi esorto nuovamente a seguirci sui nostri canali social affinché voi possiate partecipare interattivamente ad alcuni dei nostri video bene allora la prima domanda ci viene posta da marco che ci chiede la situazione di botman bene allora come ben sappiamo come anche poi annunciato stesso da pioli ieri in conferenza stampa l'obiettivo principale di questo mercato di gennaio di riparazione per il milan è il difensore centrale botman rappresenta l'identikit perfetto del difensore voluto da mister pioli quindi un giocatore alto che sappia comunque non moda nell'altro gestire il pallone e far partire l'azione attualmente il milano potrebbe procedere con questa operazione solo ed unicamente mediante un prestito oneroso con diritto di riscatto un'operazione simile a quella fatta l'anno scorso con ficaio tomori ma ovviamente il lil non vuole non ha intenzione di perdere uno dei suoi migliori interpreti in quel ruolo anche se il lil riversa in situazioni economiche non delle migliori quindi ha bisogno di vendere è un esempio lo è iconea la fiorentina in questa in questa sessione di mercato per soli 15 milioni di euro ricordando che poi quando il milano vi si interessò un paio di anni fa il lil chiese addirittura 40 milioni il milan potrebbe sfruttare questa situazione scomoda per il lil economicamente parlando per gestire l'operazione come meglio preferisce continuando sempre per quanto riguarda il calcio mercato del milan maschile ci chiede lorenzo le situazioni dei rinnovi di che si di calabria ma anche di vari layout e vernandez e benassera allora per quanto concerne che si come ben sappiamo è difficile che l'ivoriano possa rimanere il rosso nero anche la prossima stagione le richieste del giocatore l'offerta del club sono troppo differenti lui chiede all'incirca 8 milioni e mezzo 9 mentre milan si fermerebbe a 7 con qualche bonus che potrebbe arrivare agli 8 milioni bonus che alla fine non convincono né il giocatore né il suo agente a tanganà quindi frank e si è più lontano dal milan che che vicino ecco addirittura in questa sessione di mercato sirene inglese si sono mosse per lui addirittura il tottenham pare essersi presentato a casa milano con un'offerta cash con dombele per avere subito frank e si in quanto antonio conte vuole fortemente il livoriano alla sua corte per quanto riguarda invece i rinnovi di romagnoli lea benassera e teo hernandez romagnoli la società ha offerto 3 milioni di euro ai giocatori quindi a ribasso rispetto effettivamente a quanto guadagna attualmente che si aggira attorno ai 5 milioni di euro il giocatore sta decidendo sta ragionando anche perché con l'infortunio di kier sicuramente sta trovando molto più spazio rispetto effettivamente a quanto lo avesse a inizio anno a breve le parti si rincontreranno e stipuleranno comunque alcuni dettagli che potranno permettere al giocatore di prendere parte al prossimo progetto del milano quindi a rimanere rossonero o comunque ad abbandonare per quanto riguarda invece le aubena serra e teo hernandez il milano una fretta in quanto i contratti di questi tre giocatori scadranno nel 2024 però visti e viste le esperienze passate il milano preferisce anticipare i tempi blindando quelli che sono i capisalti la spina dorsale di questo nuovo milano di questa nuova squadra teo hernandez ha giurato amore eterno e rossoneri poi bisogna capire effettivamente se così sarà e anche lui così come benassere pare essere prossimo al rinnovo di contratto ovviamente a stipendio sempre realizzato rispetto a quanto percepiscono attualmente invece leao pare essere prossimo alla firma addirittura con un raddoppio di stipendio rispetto a 2 milioni che più attualmente ha 4 milioni e mezzo più bonus carlo invece ci chiede il mercato in uscita del milan quali saranno le mosse da parte di massare maldini allora due sono i principali nomi che il milano sta cercando comunque di cedere ovvero quello di andrea conti e quello di samu castiglieco per quanto riguarda samu castiglieco maldini e massara sono stati abbastanza precisi se non arriva un'offerta interessante per l'esterno spagnolo difficilmente egli potrà lasciare milanello e del milan anche perché come abbiamo potuto notare anche da questa prima parte di stagione samu castiglieco è sempre riuscito ad essere presente ad essere a disposizione disponibile per mister pioli quando comunque ne richiedeva l'aiuto per quanto riguarda invece il nome di andrea conti andrea conti anche lo stesso agente l'ha dichiarato nei giorni scorsi lascerà il milano a gennaio la sponda meglio la principale meta per l'esterno italiano e quella di empoli con il quale addirittura il milano sta cercando di imbastire una trattativa per il difensore centrale classe 2002 mattia viti infatti milan vorrebbe cercare di inserire all'interno della trattativa la contropartita tecnica andrea conti per arrivare al centrale attualmente mattia viti vale all'incirca 4 milioni di euro secondo i dati transfer market ma l'empoli addirittura nei mesi scorsi nelle settimane scorse in realtà ha rifiutato un'offerta da ben 15 milioni da parte dell'atalanta quindi se vogliamo riassumere il tutto samu asieco e andrea conti sono i principali nomi in uscita per il mercato rosso nero altra domanda molto interessante inerente stavolta al mercato orientale del milano è quella che ci ha posto gerardo chiedendoci colomuani condizioni della trattativa se arriva non arriva bene allora come ben sappiamo colomuani come anche nei giorni addietro giuseppe ha analizzato su un suo video su sempre sul canale di milan inside è un attaccante il nante che in questa prima parte di stagione ha fornito o meglio ha realizzato sette gol formando tre assist ai compagni è un giovane interessante uno di quei profili che rispecchiano perfettamente quella che la politica di eliot il milan addirittura nei giorni scorsi come riportato anche dalla gazzetta dello sport ha fatto un'accelerata per far sì che il francese potesse arrivare da subito a milano però in realtà la pista è ancora molto fredda nel senso è molto difficile arrivare al talento francese perché ci sono altre squadre che sono molto interessate rispettivamente a colomuani che sono eintracht di francoforte e liverpool gli inglesi sono un poco più defilati mentre l'eintracht vorrebbe portare colomuani in germania già da questa sessione di mercato addirittura arrivando a offrire un'importante cifra per il cartellino del giocatore il milano comunque rimane in agguato come abbiamo detto rappresenta il perfetto identikit della società quindi per trovare un abile sostituto di bregiru per la prossima stagione il milano oltre vari scamacca belotti e anche vlaovic tiene sotto controllo e cerca anche di capire informazioni su colomuani concludendo questo video è anche giusto prendere in considerazione una domanda di una nostra tifosa chiara che ci invece ci chiede della situazione mercato del del milano femminile allora bene il milano femminile quindi la parte rosa della società sta vivendo un momento abbastanza delicato ieri le rossonere sono riuscite ad arrivare in finale supercoppa italiana che poi si disputerà a breve contro la juventus però la situazione è tutt'altro che rosia vero bochete oggi è stata ufficializzata alla fiorentina ma prossima all'addio alle rossonere sarà anche il capitano o mai l'ex capitano valentina giacinti infatti l'attaccante pare essere molto vicina alla roma però secondo secondo molte indiscrezioni con una forma di una formula di prestito secco non formula di prestito con diritto di riscatto come si parlava inizialmente è un'importante presa di posizione da parte della società ma anche della stessa giocatrice nel senso che il milan punta ancora tanto su di lei e penso che il mandarla in prestito o meglio in prestito secco non in prestito con diritto di riscatto potrà servire alla stessa società qualora tirasse delle somme negative a fine stagione per Maurizio Gans di riportare l'ex capitano a Vismara e rifondare nuovamente il milan un nuovo progetto su di lei bene queste erano le domande più interessanti che ci avete fatto sulla storia di instagram che abbiamo posto un paio di giorni fa vi ricordo nuovamente di seguirci su tutti i nostri canali social instagram twitter facebook per rimanere sempre aggiornati e comunque per partecipare interattivamente a quelle che sono le notizie che vi riportiamo qui su youtube ma anche sul nostro sito ufficiale e niente per oggi è tutto vi auguro un buon anno nuovo una buona epifania una buona partita visto che a breve si disputerà milan roma e sempre forza milan